Oggi a Montestella per una giornata ecologica. Sì, è un'iniziativa che nasce dallo spirito culturale che la nostra associazione Bird Production ha. Nasce nel 2005 e il nostro scopo è proprio quello della valorizzazione del nostro territorio, che passa anche dall'ambiente principalmente. La valorizzazione del territorio passa sia da queste cose, sia da un tessuto sociale che deve essere un po' sensibile a queste tematiche, no? E allora in maniera molto volontaria abbiamo pensato di fare questa giornata ecologica, così non solo per piantumare questi cipressi, ma anche per dare un'idea di quello che si può fare. Quando stabiliamo di voler fare qualcosa noi possiamo farlo. E quindi sarebbe il caso in questo momento storico anche di iniziare a fare delle attività che siano di ampio respiro e che ritorni alla comunità come qualcosa di buono, no? Rivolti sempre verso il benessere della nostra società. Don Enzo, qui nello spazio antistante Montestella per piantare tante piantine. La pianta è segno di vita, segno vitale. Sì, abbiamo accolto con gioia questo dono di 100 cipressi da piantare proprio qui in questo luogo, nel Montestella, proprio come un segno di speranza. Abbiamo avuto e stiamo avendo in questo momento storico diversi problemi a livello idrogeologico e certamente la cura deve partire da noi. Ed ecco perché ho accolto con gioia questo dono da parte di alcuni giovani di piantare proprio in questo nostro territorio questi 100 cipressi. La pianta è un po' il simbolo della vita. Siamo in avvento, oggi è questa prima domenica di avvento e credo che ci induce a pensare al fatto che noi piantiamo oggi per avere un domani migliore. E così è in fondo tutta la nostra vita. Noi abbiamo il compito di seminare idee, seminare e curare soprattutto il nostro creato, che è il dono di Dio, ma lo facciamo in questa speranza, in questa attesa profonda. E se è vero che l'attesa tante volte è snervante, le speranze sono minime, noi vogliamo avere la stessa fede del contadino, che quando pianta non sa che il risultato ci sarà, però alla fine con fiducia lui pianta, sapendo che prima o poi arriva il risultato. E quindi grazie davvero a tutte le associazioni che hanno voluto aderire a questo momento bello di condivisione. Noi siamo un movimento spontaneo che è nato a seguito dello sciopero di Greta del 15 marzo da un gruppo di insegnanti della Locride che si sono chiesti cosa possono fare per mandare questo messaggio di intervenire subito per cambiare la situazione, visto che il riscaldamento globale è purtroppo una realtà che stiamo constatando giorno dopo giorno. E allora spontaneamente abbiamo deciso di fare attività di educazione ambientale non all'interno delle scuole, perché questo lo facciamo per professione, essendo dei docenti, ma lo facciamo all'esterno, rivolto agli adulti, perché sono gli adulti che devono prendere adesso delle decisioni importanti per le nuove generazioni. Oggi siamo qui con un alberello che viene da Vercelli, esattamente dalla scuola media Pertini di Vercelli. Com'è nata questa cosa? Una componente di Movimundi è una docente di Vercelli. Noi abbiamo pensato di far arrivare alla scuola dove lei insegna, che è l'unica scuola di Vercelli che ha un parco, si chiama, come si chiama l'americolo? Bosco Parco, sì, hanno ricevuto cinque pioppi che hanno piantato, hanno fotografato la scuola, la dirigente felicissima di questa idea che è venuta fuori di legame tra Vercelli e noi della Locride, ha deciso di regalare a sua volta a noi di Movimundi dieci piante di Sambuco. E noi queste dieci piante di Sambuco le vogliamo piantare in comuni diversi della Locride facendo in modo che ogni alberello sia dedicato anche ad una personalità importante del territorio, della nazione o comunque a una personalità anche di estera. Non abbiamo problemi di provincialismo, insomma. Per cui questo è il primo Sambuco dei primi dieci che doniamo a Montestella ed è dedicato ovviamente a Tommaso Campanella. ha avuto una visione veramente, sì, sarebbe dire utopica con la sua Città del Sole, ma più che altro di grande comprensione che la natura è in armonia con tutto il resto e noi dobbiamo essere in armonia con tutto il resto. Quindi l'uomo non deve assolutamente sfruttare quelle che sono le risorse energetiche come stiamo facendo noi adesso, distruggere quello che è il patrimonio boschivo o la biodiversità, ma dobbiamo imparare purtroppo con grande ritardo a saper lavorare con tutti gli esseri viventi di questo pianeta, Gaia, che è un organismo vivente.